Ciao Rattilover, stai cercando una city car rassicurante e iconica? Fiat Punto, 1.013 cilindrata, 85 cavalli, allestimento Street Eco, quarta serie. Parliamo di un'auto aziendale, quindi certificata e garantita perché ha superato il test dei 100 punti di controllo effettuato dai nostri automotive expert. Alimentazione a diesel per un consumo reale e medio di 5,3 litri ogni 100 km. Linee morbide e rotondeggianti, massimo comfort e tenuta di strada per viaggiare in totale sicurezza. Frontale a gettante verso il basso, cerchi da 15 pollici e vediamo insieme le condizioni del battistrada, che sono davvero ottime. Il bagagliaio con luci di cortesia ha una capienza che parte da 275 litri. Abbattiamo i sedili posteriori con questa pratica leva e arriviamo a 1030 litri di capienza. Comodissimo accedere all'abitacolo, super spazioso e luminoso grazie anche agli interni chiari. I sedili sono in tessuto bicolor con cuciture a vista, morbidissimi ed ergonomici e dotati di attacchi per agganciare i seggiolini dei vostri bambini e viaggiare in totale sicurezza. Plancia essenziale ma curata e con tutto ciò che ci occorre per non distogliere mai gli occhi dalla carreggiata. Poco più di 45.000 km percorsi, vano porta oggetti posizionato sopra le bocchette dell'area azione con bordatura cromata. Inferiormente troviamo il display con numerosi tasti dal quale è possibile gestire tutto l'infotainment. Il clima è gestibile invece da queste pratiche manopole e ancora più sotto troviamo un pratico vano porta oggetti con un porta vivite. Il cambio è manuale e troviamo un ulteriore vano porta oggetti con porta vivite dedicato ai passeggeri posteriori in fondo al tunnel centrale. Curatissimi anche i sedili anteriori con sostegno laterale e molto avvolgenti. Comfort e sicurezza per tutta la famiglia. Fiat Punto è a suo agio in città e vanta ottime qualità di guida nei percorsi tortuosi e non teme l'autostrada. Semplice ed elegante ma spaziosa a sufficienza per quattro persone. Notevoli capacità di ripresa per rendere la guida ancora più piacevole. E la tenuta di strada è sempre sicura.